Si sono tenuti ieri a Messina gli interrogatori di garanzia dei sei indagati finiti nel mirino della Guardia di Finanza nell'inchiesta riguardante una serie di presunte truffe legate ai bonus per la ristrutturazione edilizia. Cinque si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, davanti al giudice per le indagini preliminari Ornella Pastore. Il sesto indagato, l'unico a trovarsi in carcere, il medico Antonino Barbera ha fornito delle dichiarazioni spontanee, mentre il figlio Nicola, la sorella, la moglie e la nuora si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. I loro difensori valuteranno adesso l'eventuale ricorso al Tribunale del Riesame. Per il dottor Barbera, specializzato in medicina estetica, si prospetta quindi una Pasqua in cella, mentre rimangono ai domiciliari i familiari. Le indagini sul caso intanto vanno avanti. La Guardia di Finanza ha svelato l'esistenza di una vera e propria associazione per delinquere, finalizzata a truffare lo Stato e ottenere illecitamente bonus per la ristrutturazione edilizia. Figura centrale, come detto, era quella del medico Antonino Barbera di Rometta, che sfruttando il rapporto di fiducia con i pazienti proponeva loro di accedere ai contributi statali. Le agevolazioni fiscali, riconducibili al superbonus 110%, finivano ad una società, avente a oggetto la locazione di beni immobili, poi risultata priva di personale e strutture idonee all'esercizio dell'attività. Un raggiro che avrebbe fruttato ben 37 milioni di euro, adesso posti sotto sequestro. Al dare il via agli accertamenti delle fiamme gialle, un cittadino, amico del medico, che su segnalazione dell'Agenzia delle Entrate, che effettuava verifiche sull'effettività dei lavori svolti per ottenere i crediti previsti dal superbonus, ha scoperto di avere nel proprio cassetto fiscale crediti per oltre un milione di euro. A sua insaputa, ha spiegato ai finanzieri, e senza mai avere avviato i relativi lavori. Da qui le verifiche sul ruolo del medico, che aveva effettuato la stessa attività sui cassetti fiscali di almeno 40 persone.